E Coppa Italia ma avrà il sapore del campionato. Un po' perché le gale d'andata del primo turno sono in programma domenica primo settembre e una settimana dopo si comincia con il campionato. Un po' perché il trofeo regionale apre le strade alla fase nazionale e nella migliore delle ipotesi alla promozione in Serie D. Insomma è una competizione che in eccellenza da anni nessuno snobba. Il Biceglie l'ha vinta la Coppa due stagioni fa contro il Monopoli in finale e grazie alla fase nazionale si è spinto sino in Serie D. Mentre il Cerignola Il Sogno l'ha visto sfumare all'ultimo minuto della finale contro la Fermana nella fase nazionale ma prima aveva messo in bacheca la Coppa regionale. Gare d'andata e ritorno nel primo turno di questa edizione a 18 squadre e sarà subito Fidelisandria Trani anche se le carte federali indicano il Terrizzi. Appuntamento al Degli Ulivi il primo settembre, gara di ritorno giovedì 19. La neopromossa sud-est che in questa stagione giocherà all'Ocorotondo ospite il Mola. La Libertà Smolfetta andrà a rendere visita ai quartieri uniti Bari mentre il derby del Foggiano è tra Vieste e Ascoli-Satriano. Blasonata la sfida tra Gallipoli e Casarano, altro derby salentino sarà quello tra Copertino e Galatina. Mentre completano il programma del primo turno le gare Ostuni-Francavilla, Stella Ionica-Castellaneta e Virtus-Francavilla-Manduria. Già fissate le date della Coppa. Secondo turno con un solo triangolare e tre sfide ad eliminazione diretta che si giocherà sempre di giovedì il 3 e il 17 ottobre, mentre il 31 ottobre è destinato solo per il mini-girone a tre. Semifinali in programma il 14 e il 28 novembre, mentre la finale in gara secca è fissata per il 12 dicembre. Oltre al trofeo c'è l'accesso alla fase nazionale per puntare alla promozione in Serie D. Per questo la Coppa Italia d'eccellenza non la snobba nessuno.